Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, un viaggio all'Ocnes, dell'episodio numero 9, il sottomarino del chirurgo. Il giorno successivo, dall'incontro con il Vatre Orse Crusoe, Camelia, un'organizzatrice di gare sportive dell'Ocnes, tenendo a conoscenza che il piccolo sottomarino del chirurgo era molto vicino alla riva del lago, decise di organizzare una gara per trovare il famoso sottomarino del chirurgo. Chiunque sarebbe riuscito a trovarlo avrebbe ricevuto in premio una coppia del sottomarino da una bella medaglia di bronzo. Quando arrivò pomeriggio, Michele, il padre di Federico, insieme ad altri concorrenti, iniziarono la gara. Passarono molte ore e Michele credette che il sottomarino fosse andato disperso, ma continuando a cercare, riuscì a trovarlo. Felice Michele ricevette in premio una coppia del sottomarino e una medaglia di bronzo, rendendo orgogliosa la sua famiglia, che per festeggiare la sua vittoria fecero un giro sul battello, perdostrando il leggendario lago di Loch Ness. Questo è il disegno. Bene, vi ringrazio dall'ascolto, lasciate un like se vi è piaciuto, grazie alla prossima, ciao da Davide, ciao! Ciao! Grazie a tutti.